Osimena è ancora un calciatore del Napoli e la notizia che arriva alle ore 24 nell'ultimo giorno di mercato. Niente Chelsea per l'attaccante nigeriano, niente Alali. C'è una piccola speranza perché il mercato in Arabia Saudita chiude il 2 settembre ma il club aveva preventivamente fatto fare le visite mediche a Toney. Ed è proprio l'attaccante ex Brentford da occupare l'ultimo slot disponibile per un calciatore proveniente dall'estero. Se non ci fossero altre offerte dai paesi dove il mercato è ancora aperto, Osimena rimarrebbe a Napoli fino alla prossima sessione di mercato. La situazione ha generato caos e rabbia tra tutti i soggetti convolti in questa operazione flop. Più di tutti l'attaccante in rotta con la società azzurra che lo ha messo fuori rosa. Ma nell'ultima giornata di mercato arriva anche il secondo supercolpo a centrocampo con l'ufficialità di Billy Gilmour. Dopo McTominay i partenopei ufficializzano l'arrivo di un altro giocatore scozzese prelevato dal Brighton. McTominay è arrivato dal Manchester United per 30 milioni e firmato con il Napoli per quattro stagioni. Billy Gilmour arriva dal Brighton a titolo definitivo, un'operazione da circa 14 milioni di euro per un trasferimento fortemente voluto sia dal diretto interessato che da Antonio Conte. Intanto il club azzurro ha ceduto Gianluca Gaetano al Cagliari, in prestito con obbligo di riscatto da parte dei Sardi. Rimangono Zerbin e Foloruscio, fuori dal progetto anche Mario Rui.